Buongiorno a tutti dal laboratorio di Sound Machine, anche oggi a presentarvi un lavoro effettuato sulla nuova Fiat 500, in questo caso abbiamo fatto un leggero upgrade del sistema Hi-Fi originale, come vedete abbiamo mantenuto la radio di serie Fiat, che è comunque già ben dotata di dispositivi di intrattenimento tra cui la presa USB e il dispositivo Bluetooth, abbiamo integrato un nuovo sistema di altoparlanti che, come potete ben vedere, rimane assolutamente integrato all'interno delle predisposizioni originali, sia davanti che dietro, in questo caso abbiamo utilizzato degli altoparlanti Coral della linea Monza e un amplificatore 5 canali che poi vedremo dove è stato posizionato, il risultato acustico è decisamente molto interessante, chiaramente dal microfonino non è esattamente quello che si può evincere con più facilità, meglio come sempre una seduta dal vivo. Sotto il sedile posteriore siamo riusciti ad alloggiare un amplificatore 5 canali, un amplificatore del vecchio catalogo Pioneer, nel vano Bagagli, adesso qui abbiamo in bella mostra le scatole dei sistemi di altoparlanti utilizzati per l'installazione, quindi il 2V Coral Monza per l'anteriore e il 2V Quassiale, sempre della serie Monza. Questo SUV che fa parte sempre dello stesso catalogo Coral, completa il sistema. Insomma è un impianto molto semplice da realizzare, che non comporta particolari stravolgimenti della vettura, ma garantisce un implemento delle performance acustiche, sia in termini di qualità che in termini di pressione sonora, assolutamente piacevoli da valutare. Anche oggi vi salutiamo, di nuovo del lavoratore Sammascino, un saluto Valentino, ciao.